Salve a tutti e bentornati in questo nuovo episodio della campagna con il Conte Noctilus a capo della sua intramontabile ormai flotta del terrore, cara ciurma ci avviciniamo verso la fine di questa campagna mi piace ripeterlo perché ormai manca poco anche all'uscita del nuovo DLC The Prophet and the Warlock che insomma ci attende detto ciò venendo a noi gli ultimi due episodi sono stati episodi di risoluzione di problemi che avevamo ormai diciamo protratto da un po' troppo tempo e il Conte insieme ai suoi ammiragli è riuscito con una certa qual ignoranza, forza ma anche astuzia se vogliamo a distruggere completamente la minaccia Skaven che in questa regione la costa lacera continuava a dare problemi e ad abbinarsi come potete vedere la corruzione vampirica ora si espande si espande sempre più è il morbo che queste terre necessitavano di avere vicino c'è quella caotica come potete vedere riconoscibile dai solchi di magma incandescente ma ovviamente quella vampirica sarà quella principale e più importante per noi detto ciò è il momento di osservare ciò che voi, mio caro consiglio di guerra mi avete detto consigliato partendo però da una domanda con Eagle che chiede il Conte riuscirà a trovare il One Piece e diventare così il re dei pirati vi interessa avere il mio tesoro prendetelo pure se volete avanti cercatelo in esso è racchiuso quanto di più prezioso al mondo ovvio che riusciremo a trovare One Piece perché One Piece è Amanar e con Amanar sotto il nostro controllo ah questo patetico mondo sarà sotto il nostro controllo almeno le sue parti contornate dal blu dell'oceano del grande stagno del mondo come lo chiamano i Leatherman allora partendo ora da quello che appunto è il consiglio di guerra leggiamo un po' di commenti alcuni li salterò perché sono magari un pochettino decontestualizzati quindi senza perdere troppo tempo magari ovviamente vi ringrazio sempre per i commenti e cerco sempre di rispondervi però cerchiamo di tenere quelli utili per la campagna per i nostri loschi e oscuri fini mi è stato detto dal signor Benito Mussolini che continua sovente a dare consigli certo la prima parte riguarda quello che è stato fatto comunque nel corso dei due video precedenti però fonda Coven e Lulton per avere più introiti e poi conclusione con un motto penso abbastanza utilizzato in ogni caso sì Thor Elir vi ricordo il nostro obiettivo a breve termine guadagna ben 2089 e devo dire che è un ottimo insediamento per un covo ci stiamo mandando in realtà già Kelly Kelly che eccola qua prenderà il mare a breve il mare interno il mare dei sogni questa zona a sud del mare interno dell'Ultuan per poi arrivare laggiù quindi assolutamente un consiglio sempre valido quello dei covi e ti ringrazio poi sfrutto il commento che mi ha lasciato Gianfranco per dirvi semplicemente che la campagna che avevamo ipotizzato fare con Morati non viene cancellata in toto ma viene semplicemente rinviata perché ora finiremo la campagna col conte ci sarà un momento in cui la campagna del conte sarà in concomitanza con quello che inizieremo vi ricordo con Ickidclaw non si riesce mai a parlare quando faccio i video domenica sarà il prosecco del sabato sera ma c'è sempre qualche difficoltà in più in ogni caso ho tradito un pochettino la tradizione piratesca del rum per andare sul prosecco lo ammetto in ogni caso a parte ciò la campagna con Morati appunto la teniamo per un periodo magari di magra attualmente per me magari è più interessante portarvi contenuti che siano sull'attualità stando sul pezzo come si suol dire quindi non vi preoccupate SG71 che dice aumenta l'ordine pubblico togliendo le tasse questa è una cosa che io nelle mie campagne non faccio mai però è questa cosa che vedete si può fare è sempre lì pronta per noi però io preferisco sempre comunque cercare di risolvere in altri modi certo nell'ultimo momento qui di difficoltà forse togliere le tasse poteva essere una soluzione utile arrivato diciamo alla situazione attuale non c'è più bisogno però ringrazio comunque molto SG che mi ricorda una cosa che insomma non faccio io purtroppo ragazzi sono i miei limiti ma risolveremo magari nella prossima campagna magari con Ikit ci ritroveremo in difficoltà sotto questo aspetto io mi ricorderò di questo commento io bam subito correggerò le cose come stanno ah ovviamente mi è stata anche mi è stata anche fatta una sequela di proposte per nominare Catherine e vi ringrazio tutti adesso Catherine che è qua giù verrà rinominata in un modo che insomma è all'altezza secondo me è all'altezza perché Catherine rimane però però signori qui io ve la faccio vedere ma è l'unico modo per ridare il nome giusto a questo a questo eroe questa eroina Catherine piedi svelti ora abbiamo il contenuto ottimo per la lore di questo personaggio perché essenzialmente Catherine è la sorella minore di Cat mani svelte Cat era famosa nei bordelli di buona parte del nuovo mondo per le sue abilità con le mani in vita appunto era molto molto attiva nei bordelli del nuovo mondo la sua sorella minore ha seguito la carriera della maggiore però attuando una specializzazione diciamo così quasi una laurea magistrale nel movimento diciamo sussultorio dei piedi e quindi tutto quello che non posso dire dovete immaginarvelo in ogni caso in ogni caso è la degna erede di Cat in questa campagna certo è arrivata in una fase molto più avanzata ma nonostante tutto spero possa dimostrare la sua la sua capacità quanto sua sorella quindi attenzione abbiamo un personaggio importante in questa campagna ora ringrazio tutti quelli che hanno suggerito i vari nomi però questo ha prevalso cioè questo è il top questo è veramente il top veramente veramente interessante poi poi diciamo un po' che possiamo proseguire con l'imbucato che dice questo è un altro suggerimento appunto di nome Catherine Hotdog che poteva anche starci però piedi svelti e piedi svelti non si può superare però riguarda diciamo quello che era stato già fatto quindi l'ho fatto in seguito nel video successivo e devo dire di essere stato molto dirigente con il commento dell'imbucato sono stato veramente proprio a seguire quasi passo passo quello che lui ha scritto in questo commento quindi molto bene proseguiamo Tyrannus che ci dice ci siamo ritagliati finalmente il nostro angolo di pirateria è tortuga essenzialmente è tortuga ragazzi anche se in realtà è tortuga altro non è che in questa isolotto questo isolotto qua molto molto perso a bordo mappa che è sartosa essenzialmente tortuga è sartosa però noi abbiamo ci siamo fatti vedete Aranessa come è stata limitata fassù in queste terre elfiche molto molto ridotte e poi vabbè ha appunto la sua sartosa beh noi abbiamo qualcosa di meglio ci siamo fatti una sartosa con room di qualità e squillo di lusso quindi top siamo veramente un pezzo avanti poi abbiamo Jimmy sì alle razze e alle distruzioni nella terra degli elfi anche se eviterei di conquistare territori assolutamente raderemo il suolo e saccheggeremo nient'altro non abbiamo bisogno di conquistare altro non abbiamo bisogno di mettere radici altrove non serve più abbiamo tutto quello che ci serve qui nient'altro i covi sono il nostro diciamo introito maggiore quindi altri problemi non ne abbiamo e quindi andiamo così a sterminare uccidere popolazioni elfiche e non in giro per la mappa tranquillamente le nostre imbarcazioni veleggeranno a breve verso Arheim e lo faremo con come suggerisce Jimmy il conte e McDonald anche io sarei per lasciare Edward almeno diciamo a sedere sul trono di questo che è il nuovo regno pirata per controllare che tutto vada bene e magari respingere qualche possibile assalto non si sa mai bisogna essere preveduti quindi Edward sarà un pochettino la sentinella che sarà pronta ad intervenire in ogni occasione ottimo suggerimento quello di Jimmy quindi questo è ciò che faremo quindi ringrazio anche Jimmy per il nome dato a Kat o meglio Catherine abbiamo lasciato Catherine intero insomma questo è e poi proseguiamo proseguiamo diciamo anche che Minibucato torna con un secondo commento in questo che è il secondo video della serie di due quindi che cosa che cosa fare eliminare Schiatto o meglio Shadows Kroishank questo qua questo signor lord che abbiamo già sconfitto in passato per eliminarlo dalla mappa però come detto all'imbucato le ciurme pirata credo che si rigenerano comunque in ogni caso dopo 8 turni quindi certo se ci viene a rompere le balle lo togliamo di mezzo e tanti saluti ma comunque dovrebbe tornare nel giro non so di 10 turni o giù di lì non è una risoluzione finale definitiva per queste ciurme certo è una volta tolto di mezzo per un po' non lo sentiremo però vediamo vediamo vincenzino invece dovrebbe tornare nelle scherze del conte io in realtà più che farlo tornare nelle scherze del conte lo lascerei qui da Obones McDonald il nostro ultimo acquisto che è veramente bellissimo questo lord che dovrà sicuramente migliorare il suo esercito che attualmente è molto buttato su così a casaccio lo miglioreremo con il conte che diciamo donerà un po' delle sue truppe che ora si stanno rigenerando e poi gli daremo tutto il necessario per avere un esercito all'altezza del compito che ci attende ossia devastare tutto quanto e poi che cos'altro andare a sud a eliminare i nemici dimorati andremo a sud e toglieremo di mezzo questa fazione di elfi che ha arname e basta che è il tirano contro tutto e tolto loro io penso che a sud non andremo più di tanto ecco siamo a sud vorrei vedere la situazione di una nostra diciamo combinitona ossia gli annegati e platinet che li ha platinet partiva da questa zona qui ora non vedo molto bene la zona qui però vedo che insomma si è preso una buona parte della costa che solitamente è presa da lord mazzamundi e quindi da elizerman vedo fra l'altro l'assedio che viene portato qui proprio dal proprio exo atle interessante mazzamundi è sotto pressione vedo anche qui altri sediamenti alla piramide fluttuanti insomma credo che si lostra se la stia cavando abbastanza bene questo perché zombie in un altro commento era incuriosito nel vedere come i nostri compagni pirati vampiro stessero seguendo diciamo una traiettoria opposta alla nostra con Aranessa appunto in difficoltà ma anche Luthor Arcon abbastanza in difficoltà sulla costa dei vampiri qua giù forse ora si sta un attimo riprendendo però comunque ha subito una bella mazzata in passato mentre noi stavamo andando abbastanza bene nel diciamo nell'attuale periodo mentre precedentemente insomma abbiamo subito parecchie parecchie sconfitte e costrette ad andarci nelle territori che avevamo scelto quindi in ogni caso ho urtato con con le cuffie il microfono in ogni caso la situazione per noi va bene è da quello che conta poi i nostri i nostri alleati non sono neanche tanto alleati possono rimanere lì dove stanno dato che non vogliono accettare tutti i nostri vari patti eccetera che abbiamo che abbiamo sempre proposto e non ci hanno mai accettato questi maledetti quindi vabbè state lì state lì e fate pure il vostro in ogni caso con il commento di zombie che diciamo conclude questo momento dedicato alla ciurma dedicato a voi consiglio di guerra direi di ora lanciarci effettivamente nella campagna e proseguire con il passaggio turno non costruiamo nulla perché abbiamo bisogno degli introiti necessari per vi ricordo qui ad Argarial costruire dove è questo edificio qua 5000 quindi ci vuole un po' di soldino da parte lo faremo il prossimo turno e direi anche di passarlo questo beniamato turno ah signori miei sono veramente veramente euforico però sono veramente era più indirizzato verso il sono veramente contento della piega che ha preso ora la campagna perché attualmente ci riorganizziamo un attimo quindi questi saranno turni un attimino più tranquilli poi una volta riorganizzati salperemo e faremo coppia quindi Bones e il conte andiamo a sud macelliamo un po' di Elfi che insomma è sempre qualcosa di uh il Quaise e Avedorn si scanneranno a breve potrebbe essere un'ottima occasione per noi di saccheggiare con tranquillità qualche insediamento della carissima Alarial adesso vediamo di sfruttare queste situazioni strategiche no fazione di strutto dei fantasci del caos va bene allora detto ciò sono contento e quindi andiamo verso il qui perché non so perché è sottossedio ma gli elfi oscuri stanno assediando qui e vabbè non hai una gioia oh non si può non si può fare niente andiamo con Kelly Kelly impostiamo già il movimento qui vabbè 8005 muovi a tempo e riuscirò a finire il discorso comunque se ce la farò prima o poi vi dicevo stiamo ormai andando verso la conclusione però macellare elfi rimane sempre una di quelle soddisfazioni che veramente ti almeno mi nel caso rende felice mi migliora la giornata ma di tanto non di poco veramente di tanto una situazione sempre positiva quando vedo morire elfi io sono contento c'è poco da fare allora qua giù qui si sono ripresi quindi cosa facciamo una cosa del genere facciamo allora che possiamo togliere magari un po' di questi ciao e vabbè i misclick della vita dove sei obom studiamo di mezzo anche loro e e facciamo questo qui comunque l'ordine pubblico ormai è ben consolidato e la corruzione vampirica continua ad aumentare che è una crema allora ci diamo a obom mcdonald tre guardie abissali con ascia ok con il conte invece allora dobbiamo portare avanti questo ma costa un po' e vorrei tenermi i soldi quindi preferisco prendermi uno due non qua e tre ok qui avremo poi invece bisogno di reclutare dei cannoni ok lo faremo qui abbiamo un punto da dare invece a eduard allora qui abbiamo dato 5 punti adesso daremo qualche punto anche per questo velocità di reintegro e ci siamo qui si potrebbe sviluppare un pochettino le città anche qui però diamo un attimo la precedenza a una cosa alla volta quanto costa 1.3 vabbè stiamo fermi facciamo così e vediamo un attimo i rapporti con il mondo costa i vampiri niente accordo commerciale vero no vedete l'uctor harkon come maledizione lui e tutte le sue varie personalità non capiscono niente non ci danno un minimo di traccio di accordo commerciale stessero lì un patto di non aggressione con il caro mar che qui no niente non accetta neanche lui gli altri neanche lì cago forse arganette patto di non aggressione mia cara eledron eh ciao niente non riusciamo seguati negazione non ci interessano gli scrive niente qui mi sa che abbiamo fatto niente comunque sia siamo sempre molto limitati con gli accordi commerciali non riusciamo mai a giocarci molto intorno però va bene abbiamo poi catherine che insomma con i suoi piedi svelti vorremmo andare a esplorare ancora un pochettino in profondità questa costa che però vedo che non offre molto purtroppo gorgazzanno non ci sono porti interessanti e qui è tutta roba di setra signori miei setra impara qua giù è perché non ci siamo noi che rompiamo le loro montagne allora cerchiamo di fare qualcosa di utile fare questo ma si facciamo la forza degli schiavi e passiamo il turno dobbiamo rinforzare l'esercito di se lo faremo piano piano un pezzo alla volta ci dobbiamo fare praticamente dei lavori di come dire trapianto qui comunque male kit si è si è proprio andato a immergere pienamente nella guerra contro l'othern vedete come torre di lizen è caduta nelle mani appunto del restregone interessante si ammazzano un pochettino fra di loro e a me va bene noi ci guadagniamo e basta da questa situazione ovviamente ecco posto sono soldi sprecati praticamente quelli che abbiamo deciso di impiegare su hangarial perché è stata rasa al suolo benissimo non che ci abbia mai fruttato niente ma soldi sprecati bene questa non ci voleva però va bene si 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 almeno non abbiamo non abbiamo sprecato ulteriori introiti e danari utilissimi in modi stupidi allora andiamo verso tor elir sperando di utilizzarli al meglio in questo caso comunque perdere hangarial vuol dire per loro aver perso la possibilità di concludere un incanto per il controllo del vortice è una sconfitta abbastanza importante qui c'è proprio malekith che ha deciso proprio di andare a muso duro contro contro tirion e certo ha perso una buona parte dell'esercito però gli ha distrutto una città anzi gliel'ha proprio conquistata hai capito interessante il risvolto di questa campagna molto interessante e c'è un'altra flotta che sta andando però però not bad allora tornando a noi altri punti da assegnare in questo caso ad Aglielie Bradworth mio caro Aglielie e scappare gli squali lo completiamo ormai e ci siamo qui cosa possiamo dargli allora innanzitutto toglierei questi due che quattro archibugi invece li tengo tengo i loro di base che ci stanno anche bene diciamo così allora possiamo fare una cosa innanzitutto togliamo questo possiamo fare no va bene abbiamo semplicemente due di questi così hanno tre più due cinque fanterie davanti tu mio caro ne prendi altre due anzi no fammi qualcosa di artiglieria da dare a loro facciamo un colosso necrofex che gli daremo un mortaio o due sono due mortaio e gli diamo tutti che sono più expati qui togliamo di mezzo questi tre che non ci servono e direi che la prima linea può già bastare questa qua togliamo di mezzo tutta questa robietta qui che poi andremo a prendere a riempire con altro poi si potrebbe fare in realtà un orvito quello della regina Bess e vediamo se ne possiamo fare un'altra credo di no però ci proviamo lo stesso reclutare reclutare unità ok reggimenti della fama no non si può solo una reggina Bess giustamente giustamente però va bene ce l'abbiamo provato 700 alla fine era un costo accettabile e va bene questi tre andranno nel prossimo turno qua dentro con un colosso necrofex direi che ci togliamo qualche qualche piccola soddisfazione perché ovviamente un colosso necrofex è in grado di togliere soddisfazione a qualsiasi uomo presente nell'universo penso sempre unità magnifiche allora qui la costar non ci offre nulla quindi molto deludente però molto deludente non abbiamo niente di che l'acqua che ricordiamo dovevo andare a dare qualche botta prima o poi spero mi auguro ci metterò il galeone a livello 5 ma quindi dovremmo costruire questo ma ci servono soldi quindi non lo faremo e niente o bones non abbiamo altri reggimenti della fama qui non ci viene fuori niente di buono e quindi niente possiamo direi passare un altro turno mi dispiace di di darvi poco poco da da vedere insomma però sono azioni che sapete voi immagino molti di voi giochino a campagne sui total war oltre che magari vedere i video e quindi sanno che ci sono anche questi momenti sono necessari sono strettamente necessari per impostare poi il divertimento che insomma dovrebbe arrivare quando inizieremo ad andare in giro a razziare a distruggere tutto quello che ci capita sott'occhio e lì sarà veramente soddisfazione piena e come non lo so un un sigaro di ottima qualità insieme a un buon a un buon rum a un cognac a qualche alcolico bello forte ma dal sapore pieno no alla fine magari di una festa di un matrimonio di un occasione importante è qualcosa che ti dice per quel momento dice ah è tutto quello di cui ho bisogno ebbene serve prima però fare il pranzo e quindi eccoci qua recluta questo tipo di unità corosso necrofax ci dà un più 5.000 che ci serviva quindi ottimo guadagna il seguente entrato dalle incursioni cercheremo di farlo ok ok qui abbiamo una lunga descrizione a dire di leggerla dopo aver dato vita ad un equipaggio di abominevoli errori è giunto il momento per il conto e noctilus di agire ma prima per un dominio sui mari senza pari deve accertarsi che il cimitero del galeone rimanga fuori dalla portata dei necromanti rivali altrettanto bramosi di sfruttare gli infiniti poteri scatenati dal maelstrom sono pochi in grado di trovarlo senza una dettagliata conoscenza della navigazione tuttavia un particolare strumento incantato permette di raggiungerlo anche un novellino l'oroloso lunare del capitano rot il capitano rot è un noto navigatore abitante di Sardosa conosciuto come il nemico numero uno di Noctilus dopo che una delle incursioni notturne di Noctilus si concluse con la morte dell'intera famiglia di Roth il capitano disperato guidò una flotta dritta al cimitero del galeone per vendicarli un'impresa riuscita solo grazie al suo orologio lunare magico nessuno dei due vinse l'immensa battaglia combattuta quel giorno ma entrambi subirono molte perdite gli orrori visti dall'equipaggio di Roth nel cimitero del galeone spinsero molti alla fuga nel trambusto della battaglia il suo orologio lunare venne rubato assicurando che il cimitero non venisse più trovato con facilità però finché l'orologio lunare del capitano Roth sarà là fuori da qualche parte il dominio di Noctilus sui mari sarà sempre minacciato il conte consapevole che altri necromanti sono in ricerca dell'orologio lunare desiderosi di trovare il cimitero del galeone e usare il maelstrom non c'è tempo da perdere deve iniziare una campagna di incursioni per trovarlo prima degli altri con un po' di fortuna ci si riuscirà ebbene signori qui in realtà io non dimentico il fatto di continuare anche racconti dal grande oceano che è quella diciamo parte di lore secondaria minore e qui c'è praticamente una buona anticipazione di quello che sarà uno dei video che spero di far uscire nelle prossime settimane proprio dedicato a Roth e al confronto con il conte noctilus quindi questa è un'anticipazione bella e buona ve l'ho letta e devo dire molto fatta bene molto interessante allora incursioni incursioni che io non faccio quasi mai un'altra cosa che non faccio quasi mai cercheremo di farla però vediamo un attimo perché qui si dovrebbe portare sono quelle missioni che ci portano non la vediamo adesso ma questi due ci portano al diciamo al prendere un relitto un come definirlo dovrebbe portarci a una di quelle missioni qui lo stabiliamo qui di quelle missioni che ci danno l'oggetto leggendario ecco non mi veniva il termine l'oggetto leggendario in questione non so bene qual è e lo scopriremo magari appunto razziando un pochettino qualche territorio che ci sarà utile razziare ovviamente allora qui che cos'altro ci serve nel esercito di 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 questi questi quattro ok due mortai però magari sono pochini li possiamo fare altri possiamo fare anche una carronata vediamo un attimo di reclutare qualche unità che potrà servirci allora una carronata una carronata mettiamo un paio di questi e glieli diamo e direi stiamo buoni così che non si guadagna tanto e voglio avere voglio avere gli introiti per costruire il covo già al prossimo turno quindi altro non facciamo ovviamente abbiamo catherine andiamo a vedere un attimo come stanno a sartosa magari c'è anche un covo interessante da stabilire qui 3040 sì che è interessante quanti turni ancora 6 va bene andremo andremo da qualche altra parte e poi ci torniamo perché cavolo un covo lì ci guadagna ci fa guadagnare parecchio quindi sì sartoso sarà il nostro prossimo covo qui stiamo buoni non costruiamo altro non costruiamo altro non costruiamo altro va bene saltiamo tutto quanto e passiamo il turno abbiamo quasi finito dire di finire questo episodio tranquillissimo con la riorganizzazione del dell'esercito di Obonus McDonald e poi magari riusciamo già a salpare alla fine di questo episodio poi ovviamente come va già vi ho detto inizieremo nel prossimo episodio che sarà conseguenziale ad andare verso sud verso il tiranok che rimane ancora perché il tiranok è una regione dell'ultuan ma la regione dell'ultuan del tiranok ha fatto tipo ciao ciao da un bel pezzo a questa campagna e vedo che anche il craze se non state qui sta perdendo pezzi sotto la pressione di Avelorn all'Ariel sta facendo danni quindi dobbiamo dobbiamo anche valutare magari di andare direttamente lì pazione distrutta va bene un esercito di intervento di ghiacchi oscuri entra in guerra conquistata azione boh anche no cercheremo di fare di entrare in guerra quando sarà più opportuno farlo non a caso allora qua giù appunto il craze continua a perdere roba mamma mia muoviamoci vediamo il covo livello 10 per kelly kelly ottimo facciamo questo che così ci costa il 30% in meno azioni dell'eroe ottimo causa paura contro gli altri elfi non è male e qui ci siamo perfetto Catherine 6 turn attualmente 5 il nord l'abbiamo già esplorato tutto in realtà le coste le stiamo abbastanza toccando devo dire la cosa viene un po' tutte quante le possiamo lasciarla a passare i turni anche a Sartose direttamente facciamola scendere qui e lasciamola lì o Bones non può reclutare niente però una cosa che possiamo reclutare direi un un eroe non ne abbiamo nessuno veramente qui aia spettolo d'artiglieria ok però ci costa troppo non abbiamo i soldi attualmente ne guadagneremo sempre meno oltretutto però volevo uno spettolo d'artiglieria perché sono comodissimi questi questi lord ci danno un sacco di bonus sulle artiglierie sul campo di battaglia e sono bonus interessantissimi velocità di ricarica munizioni in più sono tutte cose veramente troppo 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 utili per una fazione come questa che Kelly Kelly è stata ferita ma non è morta è un ritornerò maledizione comunque l'Ultuan è un luogo maledetto per Kelly Kelly soprattutto è già la seconda volta che viene ferita penso qui ad Ultuan però riuscite a stabilire il covo ed è quello che conta molto bene Avelorn impera veramente tanto preoccupante all'Ariel è Hitler incarnato gli mancano i baffetti praticamente ce l'abbiamo però mi immagino no all'Ariel Araliel insomma come la volete chiamare con le varie pronunce una più sbagliata dell'altra probabilmente uscire sul Reichstag e iniziare a parlare al popolo lei esce dalla sua foresta e inizia a parlare al popolo inneggiando la guerra contro tutte le fazioni del mondo praticamente me lo immagino così nel mio immaginario contorto e malato questa è la visione di All'Ariel una dittatrice senza pietà penso neanche troppo sbagliata come cosa allora gli diamo questi qua sì che cosa vi manca qui di posto due unità due unità possiamo mettere un altro mortaio o un'altra prima linea però qui quanto ci costa fare il 5.000 sempre 5.000 e non guadagniamo tantissimo allora preferirei prendere qui dove qui ok e e e niente comunque ci costa perché non possiamo no no che palle ah ne abbiamo già troppi dobbiamo sviluppare e niente allora ci teniamo vincenzino qui dentro e tanti saluti e direi di 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 allora nel nel conto abbiamo bisogno di un paio di questi che riempiono da lui e all'altro gli darei un altro mortaio un mortaio e una alabarda magari possiamo dare a un bonus a un bonus tu hai anche quattro turni quindi per il momento passiamo ricerche allora ormai abbiamo fatto un po' tutto costo di partiglieri piomba morte va bene guardia abissale va bene per reclutamento per il lord più 5 non male anche questo ok il seguace primo ufficiale non male quartier mastro più 50% dalle incursioni entrata derivanti dai porti più 10 questo non è male seguace artificiere questi sono tutti seguaci mortaio caronato e franzo della ponte non è male danni penetranti per tutti i colossi necrofex costo di rivoluzamento ridotti pensarci prima resistenza alle magie costo di rivocazione dei morti meno 10 questo è morgul prometeani marcescenti leviatani marcescenti bonus carica resistenza fisica non è male possiamo fare questo o questo per i colossi necrofex non mi dispiacerebbe molto però questo riguarda prometeani marcescenti artiglieri prometeani marcescenti leviatani marcescenti colossi necrofex facciamo questo pop pop questo è discord va bene passiamo ancora un altro turno vediamo se accade qualcosa di interessante anche se non credo più di tanto anche perché ora come ora siamo ormai giunti al punto in cui le cose si sono sistemate nelle nostre terre al massimo se ci appare un esercito incavolato di Alariel ma si sta concentrando sul craze che sta veramente radendo al suolo perché vedete il verde come si espande il craze è rosso ma il verde è il colore dominante ormai adulto hanno lo stesso Tyrion con il suo bianco candido fatica a rimanere lì veramente è una cosa assurda una fazione del genere è è è over power cioè è troppo forte non non la continui più maledizione fortunatamente non dobbiamo andare a colliderci a muso duro diciamo così però mette inquietudine sicuramente allora qui togliamo di nuovo questo e vi passiamo uno di questo uno di questo volete anche questo ma non potete e voi siete a posto perfetto o bones è a posto qui invece ci prendiamo una alabarda e per concludere niente per il momento ci prendiamo una alabarda poi vediamo magari ci facciamo dare da eduard qualcosina che poi anche lui ha un buchetto in realtà potremmo farci dare a ieri e brazzarfi in realtà vi dico facciamolo perché ci serve ci serve molto dato che loro vanno saccheggiare è più utile averlo con noi a yeye piuttosto che averlo con con edward che rimarrà qui a fare da guardia detto ciò catrin hai ancora tre turni sì quindi passiamo obuns tu hai fatto gli introiti sono pochissimi ora perché abbiamo degli eserciti molto forti molto molto forti e obuns lo possiamo portare già a sud e andare verso arname quindi iniziamo a mettere modalità in marcia e andremo qua mentre il conte prende la sua ultima unità in un turno ed è pronto e andrà a sud ovviamente il prossimo turno seguirà immediatamente altro passaggio turno rapido così abbiamo completato tutta questa fase confederato oh mio dio oh mio dio ragazzi e vi dicevo prima del bianco candido sì vero plot twist ora ultuan è sotto quasi la sua interezza sotto tirion sotto il controllo di tirion e ora direi che è la fazione più forte della campagna e il fio scuri pensateci voi perché se non riuscite voi non cedisce nessuno io ho i miei interessi sì ma fino a un certo punto perché poi non è che posso farci tutto io noi andiamo a sud ci sbarazziamo del tirano e poi ci pensiamo andiamo magari ora potrebbe essere che ecco hanno più difficoltà a gestire molti eserciti magari non riescono a tenere tutte le coste sotto controllo e noi possiamo infilarci qualche razzia più tranquillità tranquillamente con più tranquillità allora no voglio questo per il momento bando da corvo se ne va va bene qui ci siamo sì qui ci siamo decisamente modalità in marcio qui togliamo la modalità in marcio e andiamo sicuro adesso si attacca lasciato sicuro però vabbè sappiamo conosciamo il nostro ratto quindi lo affronteremo vincenzino livello 24 ormai fortissimo possiamo dargli massacro totale che wow gli da un bel burst di danno e quindi glielo diamo immediatamente qui allora questo vabbè lo teniamo perché un po' di crescita sicuramente ci è comoda ci è comoda teniamo così cattro in altri due turni ma comunque se non abbiamo nient'olto dobbiamo andare immediatamente a razziare ora come ora ecco dovrebbero esserci meno eserciti credo di aver visto eserciti in meno quindi passiamo il turno vediamo se si attacca sciatto nel caso ci interrompiamo con sciatto e ci rivediamo con il prossimo episodio con una battaglia che sarà una battaglia navale praticamente anche se non esistono su Total War Warhammer 2 battaglie navali che magari potevano essere interessanti ma non credo le vedremo neanche con il terzo capitolo ragazzi sono abbastanza sicuro di questo poi magari si stupiscono e ovviamente io sarò estasiato però non credo le vedremo in ogni caso qui potevano essere molto molto utili perché con fazioni come queste insomma avere la possibilità di fare battaglie navali è una possibilità grossa importante che si sarebbe sfruttata sicuramente però il gioco è questo ci teniamo a questo il clan esching continua a fare vabbè volete anche i soldi ma non ci pensate minimamente dai che deve arrivare il turno di sciatto voglio vedere cosa fa sciatto ci attacca ci attacca ci ha avvicinato adesso lo massacriamo facciamo questo turno supplementare facciamolo scapperà sicuramente infatti va bene così ci possiamo interrompere state un bello più vicini perfetto così guardate guardate che bellezza guardate che bellezza togliamo un attimo che meraviglio che meraviglio questa è molto anonima ma questa ragazzi non la potete scambiare con nessuna nave c'è il castello la roccaforte del conte noctilus sulla sullo scafo di tante navi in realtà unite insieme dai suoi poteri micromantici cioè questa è una nave leggendaria leggendaria la bloody river meravigliosa e vederla a confronto con le altre navi comuni insomma ci dà una piccola idea della stazza di questa imbarcazione che è gigantesca è veramente qualcosa di enorme e ok direi signori miei facciamo gli ultimi crismi del caso qui saltiamo il turno lo saltiamo tutto quanto e noi signori miei cara turma ci rivediamo nel prossimo video vi ringrazio spero che questa parentesi di tranquillità vi sia piaciuta ma è una parentesi che finisce qui e ora perché già dal prossimo turno già dal prossimo turno andremo subito penso a eliminare sciatto a questo punto e seguiremo il consiglio dell'imbucato poi successivamente potrei anche valutare di lasciare stare il tirano che approfittare della situazione attuale su questa costa per rompere le uova nel paniere agli alti elfi e saccheggiare questi bei territori liberi a prima vista andremo a fare una supervisione rapida io vi ringrazio ancora e noi ci rivediamo ovviamente mia cara turma nel prossimo episodio è un po' Grazie a tutti.